Pino Della Torre, responsabile regionale del Calce 5 Calabria. Com'è andata questa prima parte di campionato? Visto che adesso siamo già alla fine del girone di andata, adesso ci sarà la pausa natalisa per poi riprendere con il nuovo anno. Sostanzialmente veramente bene. La cosa più bella è che è un campionato molto avvincente. Non c'è una squadra guida. Sembrava la futsal Polistena, ma in realtà abbiamo trovato altre concorrenti che fino alla fine combatteranno per conquistare un posto in Serie B. Quindi un bellissimo campionato di C1 come è bellissimo pure il campionato del girone A di C2 e del girone B di C2. Quindi molto aperti e fino alla fine non si saprà chi vincerà i relativi campionati. Per quanto riguarda l'ambiente e il pubblico, perché la cosa più importante oggi nel calcio è proprio questa, perché ne stiamo vedendo di tutti i colori. Ti posso assicurare che attualmente non abbiamo episodi di violenza né da parte del pubblico né da parte dei calciatori. Sta andando veramente bene. Tant'è che adesso abbiamo chiuso proprio l'altro ieri una riunione con le quattro squadre che si sono classificate per la Coppa Italia e faremo la Final Four a Crotone. Quindi 5-6 gennaio, grande festa del Calciacinque, grande festa del Futsal, tutti a Crotone. E nella stessa manifestazione inseriremo anche la finale di Coppa Italia femminile, un altro campionato che ci sta dando grosse soddisfazioni. Aumentano di anno in anno queste squadre di calcio a 5. Ecco, il motivo? Probabilmente è la facilità con cui si può organizzare una squadra. Considera che con 5-6-7 ragazzi si può fare una squadra di calcio a 5. Chiaramente quello che ancora dà un po' di problematiche è la questione economica, Mimmo. E quindi loro cercheranno anche, con questa facilità, però stanno cercando anche con piccoli sponsor di superare anche questa difficoltà. E ripeto, è la facilità di organizzare con due macchine, tre macchine e una trasferta. Quindi questo ci porta moltissimo. L'unica cosa che ci va un po' male è perché questi ragazzi devono fare anche dei grossi sacrifici per giocare su strutture di privati. E quindi ci sono dei ticket un po' alti. Quindi il palazzetto ce l'hanno pochissimi. Però, diciamo, sostanzialmente i numeri li stiamo mantenendo. Ecco, siamo adesso qualche giorno del Santo Natale. Che cosa vuoi dire a tutte le società, ai tifosi, ai sportivi, ai calciatori, a tutti quelli che sono, diciamo, in questo ambiente? Io ne approfitto di questa emittente televisiva per dare a tutti i soggetti, dai calciatori, che sono i soggetti principali, ai dirigenti che fanno tantissimi sacrifici, agli arbitri che contribuiscono a far sì che questa disciplina vada sempre nel modo migliore, gli auguro veramente un grande Natale e un magnifico anno nuovo, con la speranza di poter realizzare, ognuno per la propria parte, i propri obiettivi. Auroni.